rosalinda cannavo sfoggia il primo abito lungo della passerella del grande fratello vip ahimè 2021 rosalinda è una donna che non si prende troppo sul serio e questa ne è la dimostrazione faiette scollo è una camminata di una donna che finalmente ha capito chi è rosalinda cannavo ladies and gentlemen un applauso per questo splendido esemplare di femmina siciliana